Fra i suoi tanti meriti, La Rosa di Baghdad ha anche quello di essere il primo film italiano di lungometraggio realizzato col sistema Technicolor Dye Transfer, cioè il sistema di colore più importante fra il 32 e 52. Per molti anni questo primato è stato rimosso perché il cinema di animazione vive di glorie un po' parallele e nascoste rispetto al cinema di realtà, ma è indubbio che Anton Gino Domeneghini è stato un pioniere da questo punto di vista nel nostro paese, se pensiamo a quella che è stata la portata di questa operazione, che fra l'altro è stata realizzata tecnicamente in Inghilterra perché in Italia non c'erano ancora laboratori della Technicolor che verranno messi in piedi, allestiti soltanto a metà degli anni 50. Il rapporto della Cineteca nazionale con La Rosa di Baghdad è stato abbastanza intenso, prolungato nel tempo e la storia, la vicenda di questo restauro si sviluppa attraverso diversi anni. Inizia quando prese contatto con noi per la prima volta Fiorella Domeneghini che aveva bisogno di un master video del film per la prima distribuzione in non video, parliamo della prima generazione dei VHS, eravamo all'inizio degli anni 90 e a quell'epoca non c'erano ancora gli standard di qualità di immagine molto elevati che ci sono oggi. In quella fase la scelta fu quella di ricorrere, come più o meno si faceva sempre, a due diverse copie d'epoca del film e fare da quelle una copia, una versione, un'edizione del film ragionevolmente completa, fare da quelle un duplicato colore e dal duplicato colore, avendo anche duplicato ovviamente la colonna sonora, stampare una nuova copia che poi passasse al telecinema per fare il VHS per la distribuzione. Diciamo che la riuscita nei limiti consentiti dalla tecnica e dai procedimenti, a quell'epoca la riuscita del primo intervento sulla Rosa di Bagdad consolidò l'amicizia con Fiorella Domeneghini che a quell'epoca decise comunque di depositare alla Cineteca Nazionale tutti i materiali del film, lei li aveva recuperati dall'Inghilterra dove il film era stato realizzato tecnicamente e li aveva a Milano, li portò a Roma alla Cineteca Nazionale che è l'archivio cinematografico di Stato, ha come compito istituzionale quello di conservare, preservare, diffondere, promuovere il patrimonio cinematografico italiano. Nel 1996-98, a seguito del progetto Adotta un film, Cento film da salvare, voluto dal ministro Veltroni, la Rosa di Bagdad viene adottata dal comune di Milano che finanzia il lavoro di restauro sui materiali originali del film recuperati da Fiorella Domeneghini nei laboratori della Technicolor in Inghilterra. Questo ci consentì innanzitutto di constatare, verificare che i materiali originari Technicolor del 48-49 erano integri, erano completi, erano anche molto ben conservati e ci mise quindi nella condizione di cominciare a pensare all'ipotesi di un recupero più completo e a un restauro vero e proprio del film. La cosa più sorprendente fu verificare che ripartendo dagli originali, dei negativi originali Technicolor, recuperavamo centinaia di fotogrammi rispetto alla prima operazione, proprio perché le copie da cui si era lavorato nella prima fase dell'intervento erano usurate nel corso delle tante proiezioni e quindi avevano perso fotogrammi che erano stati eliminati perché si erano rotti e quindi non c'erano più. Nei negativi invece tutto questo c'era. Siamo riusciti a avvicinarci molto alla qualità dell'originale perché ripartendo dalle tre selezioni negative originarie in bianco e nero abbiamo potuto da quelle fare una ricombinazione su pellicola colore odierna dosando il filtraggio nei tre passaggi successivi su pellicola colore in modo tale da avere il più possibile di fedeltà all'originale. Nel 1998 il film è stato ripresentato con successo al Festival di Venezia nella sezione Il Cinema Ritrovato. Il film nella versione restaurata ha ritrovato un suo pubblico nei festival e nelle rassegne dedicate al cinema d'animazione. Col Blu-ray disc La Rosa di Baghdad può oggi finalmente essere vista in alta definizione con una qualità di immagine assai vicina all'originale cinematografico. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.